La Capitanata non dimentica. In occasione della giornata della memoria 2018, ricorrenza internazionale ricordo delle vittime della Shoah, il 22 gennaio al Teatro Umberto Giordano di Foggia, l'associazione musicale Suoni del Sud mette in scena l'operina Brundibar. Si tratta dell'opera musicale per bambini, scritta nel 1938 dal compositore cieco Hans Krasa, ucciso nel campo di concentramento di Auschwitz, rappresentata proprio da alcuni dei bambini rinchiusi e poi deportati nei campi di sterminio. Si tratta di una favola musicale in due atti, particolarmente significativa per il suo valore storico e culturale, per la sua bellezza intrinseca e per il grande significato simbolico che racchiude la vittoria, cioè della vita e della speranza sulla malvagità, ha spiegato così Gianni Cuciniello in conferenza stampa, direttore artistico del progetto responsabile di Suoni del Sud. Al progetto hanno partecipato gli assessorati alla cultura e all'istruzione del Comune di Foggia, i conservatori Umberto Giordano, l'Accademia delle Belle Arti, il liceo musicale Carolina Poerio, il liceo musicale Maria Immacolata di San Giovanni Rotondo, la scuola statale primaria dell'infanzia San Giovanni Bosco. Due le repliche in programma, la mattina alle 11 riservata agli studenti e la sera alle 20 aperta al pubblico con ingresso gratuito.